il miele eccoci siamo in diretta con federico salmoni come stai benissimo senti voi siete quelli che avete chiamato enrico borghi di italia dei valori il senatore claudio borghi della lega siete gli stessi guarda naso sta cosa io non sai no perché tu non fai sottopancia tu fai senti un attimo ma insomma questo 3 per cento in sardegna è nata una chiavica è la regola del 3 per cento non la conosci una regola europea è una regola europea è quella dei perdenti a testa cascao zaino guarda se buono manca portato zaino senti un attimo dimmi dimmi federico è nata a litigare a meloni ma assolutamente no no assolutamente no quanto vero te abbiamo inviato al candidato abbiamo sentito dichiarazioni di grande buonsenso da parte di tutti i leader della maggioranza sai come ho imparato da un amico in senato questo amico dice una cosa che voglio consegnare ai tuoi ascoltatori non devo fare i chilometri però no amico mio tu devi fare se stai pesantendo devi fare un po' di moto io non perdo mai o vinco o imparo questa volta abbiamo imparato va bene così voi l'ha detto nelson mandela mica te l'hai inventata te no certo certo ciao frate manco questo riesce a inventare te grazie a tutti